Anticipazioni dei Dreamer, lunedì 20 luglio 2020. Jeanne torna sulla spiaggia e viene raggiunta poco tempo dopo da Sanem. Lei sta per allontanarsi ma Jeanne la trattiene. Lei spiega che ha sempre paura di parlarle perché lei è come il vento, sembra avvicinarsi ma poi sparisce all'improvviso, anche nel caso di una parola sbagliata. Sanem allora chiede scusa al fotografo per il suo comportamento passato per tutte le volte che gli ha chiesto di andare via. I due si sdraiano per vedere le stelle e Sanem racconta a Jeanne la storia della costellazione di Orione. Alla fine Jeanne e Sanem si addormentano abbracciati ma lei scappa via a risveglio. Al lavoro si torna sul set dove si presentano anche i genitori di Sanem per portare un po' di cibo a tutti. I due si rendono conto che gli sguardi tra Jeanne e Sanem sono molto particolari e che probabilmente lei è innamorata. Successivamente arriva anche Pauline che chiede di parlare in privato con il fotografo. La ragazza gli dice di stare lontano da Sanem perché lei è soltanto una ragazza sciocca e non è all'altezza di un uomo come lui. Grazie a tutti.